Non ho problemi a dire a tutti quelli che stanno nel nuovo centrodestra che sono lì e che sono il prodotto di ciò che Silvio Berlusconi ha dato loro perché ricordo che non si vincono dei concorsi per fare ministri, non si vincono dei concorsi per diventare segretario di partito e a questo punto non si devono neanche vincere le elezioni per fare il Presidente del Consiglio, visto che abbiamo il terzo Presidente del Consiglio non eletto. Io dico va bene vincere la lotteria ma almeno comprare il biglietto.